Ciao amici di MyFootballJersey, i mondiali si avvicinano sempre di più e quindi continuiamo a vedere le maglie delle squadre che andano in Qatar nei prossimi mondiali 2022. Questa è la prima maglia degli USA in versione FUN, quella cioè pensata per i tifosi. La maglia Nike United States 2022 combina i colori tradizionali della squadra da calcio degli Stati Uniti, bianco e blu navi. Ufficialmente i colori sono White Loyal Blue. La cosa eccezionale della maglia Nike 2022 è il posizionamento degli swoosh. Invece di avere un logo Nike sul davanti, la nuova maglia presenta gli swoosh sulle maniche. Questo stile è ispirato alle maglie da football americano, in particolare ai modelli NFL di Nike. Celebrando la diversa eredità sportiva degli Stati Uniti, lo stemma allargato e centrale si ispira alla divisa del basket, mentre l'esclusiva costruzione delle spalle si ispira al design delle maglie da hockey. Pantaloncini bianchi e calzini blu completano il look della nuova divisa casalinga. Questa è una maglia semplice, ma i colori dell'America secondo me sono molto belli e nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Fatta molto bene, con colori brillanti, le cuciture non danno fastidio e tempi di consegna super veloci. Qui in alto vedete il prezzo su questo che altro aggiungere se non chi è veramente bassissimo, quasi imbattibile. In basso trovate tutte le informazioni per ordinare la maglia e soprattutto anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Nel frattempo se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo prossimamente! Io sono alto 1 metro e 75 e peso a 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.